buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo nostro spazio nella nostra rubrica una settimana d'ordinaria follia che è l'ultima del 2022 oggi infatti al 30 sto guardando qua 30 dicembre 2022 allora per l'occasione edizione specialissima vorrei riassumere dopo la sigla quelle che a mio avviso sono state le notizie più pirotecniche siamo verso il capodal più esplosive del 2022 alcune sono iniziate nel 2021 le uscite eccezionali dei giganti che ci hanno accompagnato attraverso questi difficili anni di crisi di guerra di pandemia di pandemia veramente interessanti notizie che avrebbero dovuto risvegliare un intero paese un intero occidente invece mi pare che l'abbiano seccato vabbè comunque c'è sempre speranza in tutti i sensi aiuto allora domani mattina sarò con voi con sempre con la rubrica 5 minuti oltre le nuvole dove parleremo del rinnovamento il nuovo la fine dell'anno perché a capodanno le persone impazziscono sparano si fa saltare mani si ubriacano a morte ci sono delle motivazioni profonde psicologiche che è bello indagarle comprenderle per generare veramente il nuovo sempre e non impazzire un giorno all'anno e poi ci vedremo per accogliere il nuovo anno domenica sera con la notte dei frati poi mi prenderò una piccola pausa non tanto per rilassare o almeno forse mi rilasserà comunque per mettere le basi del prossimo libricino che sarà spero tremendamente filosofico spirituale meditativo e niente di tutto sto ciarpame che andiamo alle radici all'essenza di ciò che ci rende liberi benissimo io direi di di partire con la sigla sigla bene carissimi allora partiamo dalla prima indimenticazione questa è per gli indimenticabili allora la prima notizia io la pubblicai feci un video con questo titolo proprio con le sue parole e rischiai la chiusura del canale youtube mi cancellarono il video dicendo che facevo disinformazione medica io ho semplicemente ripetuto queste parole allora replicai ai sommi sacerdoti di youtube dicendo guardate che se io sto facendo disinformazione se queste parole sono disinformazione è il nostro presidente del consiglio che fa disinformazione immaginate che io abbia avuto risposta no cosa disse il nonnino l'uomo d'alto profilo il gigante non ti vaccini ti ammali muori oppure fai morire ecco era il 22 luglio 2021 questa notizia poi genera mette le basi del green pass delle restrizioni delle discriminazioni poca paura oltretutto no è no queste parole dette dal presidente del consiglio in diretta nazionale mondiale no non fanno paura dopo abbiamo visto pubblicare articoli sostenere che se uno di voi oggi dice sembra che ho letto studiato anche guardando notizie provenienti da altri paesi che questi vaccini possono provocare delle reazioni zitto queste parole spaventano e provocano miocarditi neanche ansia miocarditi ecco questa è un'altra delle notizie folli secondo me indimenticabile del 2022 un presidente del consiglio che dice se non ti vaccini ti ammali muori oppure fai morire di una potenza di una violenza queste parole estrema più tutto il terrore dei mass media più la tecchipirina la vigilatesa cioè la tecchipirina non curavano neanche nel modo normale delle precedenti influenze che probabilmente avrebbe aiutato molto la tecchipirina non è un anti infiammatorio abbassa la febbre quindi depotenza la risposta immunitaria del sistema del soggetto e poi stai lì in vigile attesa soprattutto i vecchietti fragili che fai la vigile attesa del morire in vigile attesa del morire rimasi è quasi poetica la cosa ecco ora le sue parole non spaventano non inquietano non angosciano bene non hanno angosciato che è successo poi che nel 2022 eravamo in circa ad ottobre metà ottobre janine small molto molto small alta funzionaria dell'azienda farmaceutica pfizer ammette non abbiamo fatto test per fermare i contagi nessuno ce l'ha chiesto ma certo fai un vaccino per la pandemia imponi alla gente togli il lavoro li segregui gli umili gli offendi discrimini eccetera ma perché chiedere se il vaccino blocca il contagio quindi su quali basi sono state fatte le affermazioni precedenti su quali basi è stato imposto il green pass su quali basi la gente è stata tenuta a casa cioè no ma pare che molti non abbiano collegato i due eventi cioè tutto ciò che è stato fatto prima e ciò che si è svelato dopo perché i tribunali dovrebbero praticamente essere come il cielo la notte di capodanno boom esplosione fuochi d'artificio no va bene procediamo andiamo alla terza uscita eccezionale è sempre lui però perché è stato poco con noi ma intenso mario draghi 7 aprile 22 preferiamo la pace o il condizionatore acceso ecco questa è la sua summa teologica sociale politica della guerra l'energia vuoi e la pace o il condizionatore acceso io questa la terrei fra le le più potenti di questi ultimi anni altra potentissima realtà fatto che va un po se andiamo indietro con la memoria credo che dovrebbe creare un po di du di domani non lo so allora qui ho preso un qualunque sito di sanità che riepilogo un po a che punto siamo ad oggi allora prenotate online campagna vaccinazione prenotate online ciclo primario dal 27 12 bambini fra i sei mesi e i quattro anni fare il ciclo primario mi raccomando ora questa è l'italia molti paesi hanno seguito esattamente il contrario hanno sconsigliato stanno sconsigliando hanno bloccato completamente le vaccinazioni agli under 18 addirittura agli under 40 qua siamo ancora fra i sei mesi e quattro anni altra cosa quarta dose cittadini over 12 quarta quinta cittadini over 60 fragili e no mi piace questo e no fragili e no quinta adesso vediamo con la cina che esplodono i casi se devono finirle tutte quindi andiamo alla sesta la settima ma vi ricordate come era iniziata questa cosa col furgoncino dei pinguini meno 40 poi le facevano a più 40 le iniezioni davanti alle discoteche in spiagge eccetera ma i grandi i guru i geni in tv una era poi no vabbè dai c'è un richiamo si fa con tanti vaccini un richiamo funzionicchia 3 no ma tre ma sei coperto a vita anzi ti inrobustisce addirittura meglio del viagra ok rende gli atleti più forti 4 5 cioè vabbè ci possono dire qualunque cosa a questo punto qualunque cosa altra notizia importante questa addirittura ha una storia decennale quasi ormai cioè è una modificazione antropologica genetica biologica sociopolitica filosofica direi sto parlando del governo che abbiamo ma in particolare di giorgia allora breve riassunto che ho preso da visione tv ma lo trovate anche su repubblica e corriere della sera la stampa tutti concordano su questo fatto però ne parlano moderatamente perché per il momento fa un buon lavoro però è un fatto quale la metamorfosi kafka le metamorfosi c'è questa giorgia meloni che da parlamentare di opposizione nel 2014 presentava una mozione contro le sanzioni alla russia ed esprimeva la necessità di un'ucraina neutrale la stessa che condannava la politica europea antirussa affermando si limitasse a fare da scendiletto agli usa oggi non solo rinnega le posizioni prima assunte ma si fa interlocutrice privilegiata di selensky beh la ricordiamo con lodomiro sono giorgia la telefonatona al premier non basta alla premier scusa alla premier non basta soffiare sul fuoco della menzogna e schierarsi apertamente con l'ucraina non basta utilizzare il denaro di ogni singolo lavoratore italiano per finanziare il governo ucraino ed inviare armi la melons apprendiamo da selensky perché ce l'ha detto selensky si spinge ove nessuno finora ha usato mai andare fare valuta la fornitura di sistemi difesa aerea per proteggere i cieli si parla della no fly zone della chiusura dei cieli di chiev in tal modo si aprirebbe ufficialmente la guerra mondiale e l'italia diventerebbe il nemico numero uno della russia esposta a qualsiasi tipo di ritorsione ora visione tv c'è andata giù un po troppo pesante con l'apocalisse alla fine vabbè forse si è sbilanciata troppo però possiamo dire che un potenziale conflitto su larga scala diverrebbe sicuramente più vicino si farebbe un po più vicino potenzialmente più probabile non lo so usate voi le parole sono certo di una cosa però io metterei tante persone a vivere a kiev le mettere in donbass dal 2014 ma le metterei anche a vicenza a ghedi a daviano perché in queste zone noi lo sappiamo bene chi vive qui c'erano dei piani sono stati svelati sono stati pubblicati sui giornali delle nostre città dei piani per radere al suolo vicenza e tutto il veneto c'è praticamente ve l'ho già detto il mare lo troveremo a bergamo per abbassamento a forza di testate nucleari del veneto e i piani erano dell'ex unione sovietica di risposta nucleare perché qui siamo farciti cioè proprio belli farcitelli di basi importantissime logistiche di intelligence e basi proprio di risposta nucleare ma è bello in questo periodo c'era una pandemia dovevamo vincere il nemico avete visto come l'abbiamo vinto bene come l'abbiamo gestita bene la cosa portando amore nel cuore delle persone non era non è finita non è finito un bel guerra per dividere ancora di più le persone perché ovviamente un'infinità di italiani che oltretutto la maggioranza non sono per nulla d'accordo con tutto ciò e questa opposizione teorica di prima è salita anche proprio perché offriva l'idea di non essere così schierata così una perfetta continuità con la politica che abbiamo visto prima del drago di comodo delle sinistre che non sono sinistre perché sono la personificazione della finanza transnazionale globale e dei grandissimi poteri quindi che cacchio di sinistre sono sono dei radical chic e però l'abbiamo visto in una metamorfosi incredibile in un mesetto e mezzo due quindi questa è l'altra notizia ora l'ultima secondo me che merita menzione che ha attraversato il 2021 2022 è noi inviamo armi per la pace noi facciamo la guerra per la pace è antica questa cosa nasce un po' nel 2001 circa dopo il crollo delle torri gemelle sapete la guerra al terrore Saddam Hussein le boccette di Colin Powell eccetera che se se la fosse bevuta ora mi torna in mente una locuzione latina molto nota si vi spacce in parabellum se vuoi la pace preparati alla guerra questa locuzione ha un suo senso cioè se a fianco hai un vicino potente preparati ad essere potente anche tu ad ipotesi di conflitto può avere un senso perché se tu sei ricordo un po' la guerra fredda due blocchi molto potenti alla fine non si sono così azzuffati ma questa nuova locuzione cioè si vi spacce in parabellum si vi spacce invia armi se vuoi la pace invia un sacco di armi mi sono chiesto da dove sono andati a dove sono andati a raccattarla gandhi non lo so anche grandi filosofi della nostra storia occidentale egel cant cant parlava del vuoi la pace non lo so la sintesi speciosa l'io trascendentale per raggiungere devi mandarle a non me lo ricordo schopenhauer spinoza torniamo indietro aristotele platone eraclit eraclito forse nel mondo dei contrari gli opposti sapete l'unico posto dove ho trovato una frase che può essere adatta il film point break che vi ricordate era un film dove dei sociopatici facevano rapine surfavano bevevano trombavano e facevano rapine ecco in un passaggio del film uno dei più sballinati dice la pace si ottiene con una potenza di fuoco superiore bene noi siamo guidati da gente ispirata da point break ora vado verso la chiusura ragazzi prendiamo notizie di questi giorni tanto per vi dicevo no dividono su tutto e allora continua anche la divisione omosessuali eterosessuali e continuiamo con la storia genitore 1 e 2 mamma mia allora lo schiaffo del governo ai genitori gay la repubblica questa lo schiaffo restano padre e madre sulla carta d'identità allora io mi chiedo ma non può un genitore scrivere come in america no nelle targhe sapete che potete personalizzare la targa se dietro ti vuoi scrivere pirla lo puoi scrivere se vuoi scrivere pier iniziano tutte e due con la p te lo puoi scrivere basta che un altro non abbia preso la tua targa ora può un genitore dire io voglio mettere genitore 1 magari genitore 2 non è solo un fatto che riguarda gli omosessuali ma magari è morto il padre è la zia l'altro genitore non vuole essere la zia ma nella carta d'identità genitore 2 cosa scrive genitore zia vabbè scriverà genitore zia ma dovete smartuffarci le palette eoliche con sta storia mentre c'è una guerra allucinante in corso ne combinate una peggio di bertoldo e continuiamo anche questa storia senza fine genitore 1 e 2 se io voglio stare padre e la mia compagna madre e no ma così però tu potresti discriminare chi invece non può scrivere padre ma saranno anche affari suoi dall'altra parte se mettiamo 1 e 2 discriminate il sottoscritto altri che vorrebbero aver scritto padre ma non si capisce sta storia di inclusione qua è l'inclusione dentro quello che vuole qualcun altro è come il discorso dei vaccini siamo così inclusivi così democratici così liberi che alla fine sto zitto poi vi do una bellissima notizia a vicenza c'è stato un aumento di nascite 2 un po come quel serbo che protestava contro putin 1 ma è record di decessi e continua il giornale della mia città scrivere che è record di decessi a settembre c'era una moria come non sarà mai vista in passato ma era cos'era il cambio di stagione un disastro adesso cosa c'è il freddo non lo so sono quattro al giorno di morti vabbè io questa notizia ve la do così abbiamo un piccolo problema demografico ma chi se ne frega certo che certi totani alla fine è la coscienza da sé che produce questa sorta di estinzione va bene e credo di essere giunto alla fine non chiudo con questa con questo meme che spero vi faccio un po sorridere ma è anche drammaticamente vero allora un'amica mi ha inviato vedete lo scarafaggio con è un meme e ve lo traduco e fine c'è uno scarafaggetto no lo vedete bello bello lì brutti gli scarafaggi dice il meme uno scarafaggio può sopravvivere a una guerra nucleare ma muore se schiacciato da un giornale vedete quindi a che punto sono pericolosi i media ecco io condivido in pieno e ricorderei un po tutti noi che noi non sopravviviamo né ai giornali che ci stanno cucinando e nemmeno alle esplosioni nucleari quindi georgia vlodomiro deve una calmata si direbbe dalle mie parti rimando carissimo abbraccio brothers noi ci vediamo domani mattina con cinque minuti oltre le nuvole che entriamo nella follia del capodanno e la bellezza del rinnovarsi che è meglio a domani ciao a tutti 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 ciao a tutti